Domani il Palermo, mentre in città la sfida sul terreno della capolista viene distratta dall'atmosfera prederbico, le attenzioni puntate sulla questione biglietti. Confermati i 733 tagliandi destinati ai residenti del comune di Lanciano, che da domattina potranno rincorrere tutti in fila il privilegio di assistere alla partita, accedendo solo alla gabbia ospiti, solo se muniti della tessera del tifoso, acquistando presso il bar Micolucci dalle ore 9 alle 19 di lunedì. Per i non residenti c'è invece la possibilità di occupare tutti gli altri settori dell'Adriatico Giovanni Cornacchia. In pratica, e sembra un paradosso di una norma comunque lacunosa, un super tifoso rossonero, residente a Mozzagrogna o a Fossacesia, paesi proprio alle porte di Lanciano, potrà acquistare i tagliandi per la curva nord e poi presentarsi casomai con la sciarpa rossonera. Evidentemente qualcosa non va. Tornando all'attualità, la Virtus ha raggiunto l'isola nel tardo pomeriggio in volo da Fiumicino. Mammarella, Tiam, Amenta, Trest, Paghera, Germano sono rimasti a casa tra infortuni e squalifiche, con Mister Baroni che farà di necessità Virtu. I playoff rossoneri vogliono andarseli a prendere e non importa che al Barbera sarà tutto esaurito. Occorrerà una partita dalla rara determinazione contro la più forte di tutte, Mister Baroni. Voglio che andiamo a Palermo, ripeto, in una partita che chiaramente se il Lanciano la perde non succede niente, se la pareggia ha fatto qualcosa di buono ma se la porta a casa ti cambia il percorso. Quindi credo che valga la pena preparare una partita di coraggio, di grande attenzione cercando di sbagliare poco, chiaramente. Quasi 100 i sostenitori rossoneri al seguito e questa la probabile formazione in dubbio tra la conferma del 3-5-2 o il ritorno al 4-3-3. Nel primo caso, Sepe tra i pali, difesa 3 con Aquilanti, Ferrario-Ficagna, a centrocampo Decol, Buckel, Paghera, Dicecco, Nunzella, in avanti Piccolo e Falcinelli. Altrimenti il 4-3-3 con Decol, Aquilanti, Ferrario e Nunzella, in difesa, Paghera, Buckel e Casarini, 3 di centrocampo, Piccolo, Falcinelli e Turchi, il Tridente. Per quanto riguarda il Palermo, tutto esaurito, si diceva al Barbera e Mr. Iachini promette di non regalare proprio nulla. Noi continueremo a ricercare prestazioni, a fare valutazioni, a far punti e quando lavori in questa maniera poi naturalmente vengono anche altre cose, possono venire fuori strada facendo anche altre soddisfazioni. E' giusto che questa squadra, questo gruppo, si vada a prendere, si vada a ricercare perché sono cose che poi rimangono nella storia di una società, nella storia del Palermo, dei suoi tifosi, di noi che la viviamo. E quindi è giusto che si vadano a ricercare anche queste cose, ma lo faremo sempre pensando con l'ottica di pensare a una partita per volta. Grazie a tutti.